Abbiamo un paniere molto importante di risorse finanziarie e di ambizioni, di obiettivi. Rinnoveremo significativamente sia il parco rotabile per la gomma che per il ferro. Nel totale abbiamo oltre 110 milioni di euro divisi per due. La metà va per quanto riguarda gli autobus della gomma e l'altra parte va per i vettori del ferro. Adesso in prima battuta usciranno bandi di gara per 68 autobus che andranno a migliorare la dotazione al servizio delle città e anche delle fasce urbane fuori delle città. Abbasseremo l'età media di questi mezzi che significa sicurezza e significa anche evitare la romanizzazione cui abbiamo assistito qualche giorno fa visto che adesso gli autobus diventano anche vettore del fuoco. Voglio ringraziare il nuovo capo dipartimento dei trasporti, l'ingegner Primavera che diventerà una specie di direttore generale del MIT su base regionale e anche il nostro plenipotenziario per quanto riguarda trasporti, infrastrutture, mobilità urbanistica e anche abruzzesi nel mondo che si chiamano abruzzesici che l'avvocato Maurizio Di Nicola sostituirà e supererà la dedizione di Camillo D'Alessandro che è diventato deputato nazionale. Faremo in modo che la città di Pescara e le altre città conoscano il trasporto sostenibile di qualità collettivo che sia un trasporto giudicato bene dall'Italia e anche dall'Europa. Vedremo di ridisegnare anche il percorso delle strade di questa città per esempio facendo in modo che i cittadini facciano più uno. Non è che troviamo una soluzione su un fronte e poi si crea un problema su un altro fronte. Ragioneremo con le cittadinanze e quello che è certo è che quello che mettiamo in campo deve costare poco e durare tanto. Io temo le soluzioni che costano tanto, durano poco e mettono nell'incertezza il bilancio pubblico regionale. Oggi funziona quello che immettiamo se costa sostenibilmente.